Tagli ai fondi sanitari da parte dello Stato e delle regioni, qui nel Piceno i dipendenti stanno protestando duramente contro le scelte della giunta SPAC. Abbiamo ascoltato alcuni pareri da parte di cittadini che si sono recati all'ospedale di San Benedetto del Tronto, Madonna del Soccorso. I tempi di attesa sono lunghi, lunghissimi. Per quanto riguarda la prestazione è buona. Comunque è difficile la situazione. La signora è stata operata al ministro qui all'ospedale di San Benedetto, un suo giudizio? Io mi sono trovata bene, sto bene, dieci giorni mi sono operata, ci manca poco che vado a ballare, fra due giorni, giovedì. I tempi di attesa la gente si lamenta molto? No, quidici giorni. Sono stata fortunata, boh. Ho avuto l'attesa, se necessario, da ieri a oggi non ho atteso niente. Ieri ho prunitato e non ho fatto questi esami, dovevo fare dei raggi. Beh, veramente, i tempi di attesa sono un po' lunghi, però come servizio è buono. Lei cosa ha richiesto in particolare? L'oculista, però devo aspettare fino a febbraio, quindi ho dovuto prendere privato. Quanto dovevo pagare? 70. Di recente, per fare l'elettroengefalogramma, ho dovuto pagare, perché i tempi di attesa erano 3-4 mesi. E per mia moglie lo stesso, l'elettromiografia. 3 mesi di attesa è a pagamento subito, perciò non sono soddisfatto. Queste cifre a pagamento, quanto all'incirca, quando si aggirano? Sulle 100 euro. È rotto, insomma. Abbiamo qui una cittadina spagnola che per alcuni problemi sanitari è stata ricoverata all'ospedale di San Benedetto del Tronto, adesso è felicemente uscita, lo vediamo dal sorriso. Un giudizio sulla qualità della sanità qui a San Benedetto? In San Benedetto, la infermiera e il doctore molto bene, molto simpatico, molto agradabile. Ma la qualità della stanza, tutto, è migliora in Spagna. Nosotros in Spagna ti dann tutto, il pijama, il papel higienico, la borsa per la ducha, tutto. E qui tutto è della casa. E nella abitazione due letto, non 4, differente.